Bentornati su Denot, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda l'unboxing e recensione per quanto riguarda il box di Brokerinos per Waram Age o Sirma di Orec Benzai Orecs Dreadlands. Ecco che questo è un box che io desideravo prendere perché volevo cominciare gli Osso Boribus ma i modelli diciamo che non sono economici e questo box mi ha permesso di prendere i modelli che mi interessava ovvero la Cavalleria che è veramente bella e risparmiare anche non poco quindi ho deciso di prendere questo box perché secondo me è veramente ottimo. Quindi ora andiamo a vedere quello che è l'intorno per quanto riguarda il box e poi i contenuti dello stesso. E all'interno di questo box abbiamo due unità di Cavallos Deathriders e questo modello che può essere montato come Lich Cavallos o come Arch Cavallos Zantos. E a riguardo io vi vorrei ricordare anche una cosa. che beve solo caffè per mantenere il suo amore più nero che c'è. Ok ok lasciamo perdere. In ogni caso voglio ricordare che in descrizione potrete trovare la playlist per quanto riguarda quello che è il Battletomb degli Oscar Boribus e all'interno quindi sia l'unboxing e recensione dello stesso che anche le analisi per quanto riguarda le diverse parti del Battletomb. Quindi ora andiamo a vedere i contenuti all'interno di questa scatola. E qui abbiamo questo che è in mano le istruzioni per come andare a montare i vari modelli e io questo vi consiglio di andare veramente a studiarlo e a leggerlo. Uno perché avete più unità quindi sapete anche e oltre che più modelli sapete dove vanno i vari pezzi. Poi magari potete anche studiarlo per capire eventualmente dove andare a analizzarlo, andare a fare modifiche perché appunto avete molte opzioni che possono essere diversificate. Quindi secondo me questo è un ottimo sistema per capire meglio quali sono le opzioni che vi permette di avere appunto questa unità e poi andarle a sviluppare per ottenere magari anche dei modelli totalmente diversi. Quindi è un qualcosa che io vi consiglierei molto di tenere in considerazione. E qua ovviamente avete anche le regole per andare a giocare i modelli stessi. Quindi questo è un'ora di istruzioni che vi consiglio veramente di tenere e di dare un'occhiata quando andate a montare perché vi può essere veramente d'aiuto. Qui possiamo vedere quello che è il personaggio speciale o comunque il personaggio che questo è per quanto riguarda il cavaliere e questo per quanto riguarda la cavalcatura. Come potete vedere è veramente molto molto bello. Quello che interessa a me è vedere che se andiamo a vedere effettivamente il design qui è molto simile ai Morgast o anche se andiamo a vedere anche un po' le schemi per esempio per le gambe qui è simile. E' molto simile anche le cavalcature di Arkhan, Manfred e Neferata quindi Tedder ed Abyssal. Sono minature veramente molto molto dettagliate. Se andiamo a vedere anche ad esempio qui la cavalcatura o anche le armi vediamo che sono molto sottili, molto fine. Sinceramente me le aspettavo più grosse come dagli immagini sembrano più grosse una volta dipinte. Ma sono molto delicate alla fine come dettaglio o altro. Guardate anche semplicemente questi che sono qualcosa di fenomenale, eccezionali veramente. Ecco che qui abbiamo detto abbiamo due copie dello stesso, quindi questo è lo stesso. Abbiamo questi che sono due perché abbiamo appunto due set della stessa unità, quindi anche questo è molto interessante. E secondo me questo è qualcosa che va tenuto in considerazione perché abbiamo il fatto che con questi modelli possiamo realizzare qualcosa di peculiare. Andiamo a vedere ad esempio anche le basette. Vediamo che ci sono le basette. Queste sono normali basette di cavalleria alla fin fine. Quindi sono quelle normali. E questo è per quanto riguarda la basetta per il passaggio speciale o comunque per il capitano o personaggio che vogliamo andare a montare. Quindi possiamo vedere che alla fin fine abbiamo già un'ottima base d'armata perché se andiamo a vedere, prendendo una cosa del genere, a parte che spendiamo un sacco di soldi rispetto a prendere separatamente, ma abbiamo anche il vantaggio che abbiamo praticamente da un terzo a metà dell'armata. E se siete interessati vi invito di nuovo ad andare a vedere in descrizione nella playlist quello che è la parte per quanto riguarda i cavalos perché hanno l'opzione di avere un'armata basata potendo potreste prendere due di queste scatole per praticamente avere un'armata basata sui cavalos direttamente. Non ve lo consiglio perché secondo me è sempre meglio non avere un solo tipo di intamma, magari spaziare. Però il compset c'è e secondo me merita molto. È un qualcosa che veramente consiglio tanto perché a mio avviso questo è un box che vi permette di avere delle unità che sono veramente splendide, veramente ottime come state a vedere i dettagli, sono veramente eccezionali e tutto questo vi porta ad apprezzare forse una scatola che non è eccezionale ma vi porta delle immature molto belle. Pensate soltanto a queste cavalcature qui, volendo potreste montarle come cavalieri neri Black Knights per l'armata di non morti, magari andando a sostituire test dei modelli o magari cambiando un po' l'assenare dei modelli che avete. Quindi si può fare veramente tanto con questi modelli, secondo me veramente c'è molto potenziale. Quindi vi consiglio di darci un'occhiata perché merita notevolmente. Come avete potuto capire ho apprezzato molto questa scatola e in futuro vi porterò sia modifiche che magnetizzazioni basate su questi modelli perché secondo me hanno veramente tanto potenziale e si può fare qualcosa di molto interessante a riguardo. Ad ogni modo! Da Dynamode per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo a questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamode è tutto, alla prossima!